A Terra un ulteriore passo in avanti per la riqualificazione del teatro comunale. La Giunta ha infatti approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'appalto integrato che può andare in gara per la prima fase. Il monumento culturale principale della città sarà dunque riqualificato nell'attuale sede, con interventi di ridefinizione dell'accesso da Corso San Giorgio e il nuovo foyer, dove sono sistemati la biglietteria, il guardaroba e il bar. Un progetto importante, fatto da un architetto terramano milanese, ma che ha riqualificato tutto il complesso edilizio e non solo il complesso edilizio. Una struttura importante che resideremo alla città nei prossimi anni, che vedrà la possibilità di poter fare qualsiasi rappresentazione teatrale e musicale. Quale sarà il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio adesso dovrà essere messo a gara il progetto preliminare e quindi ci sarà successivamente un progetto definitivo che andrà a gara e ci sarà la scelta della ditta che dovrà eseguire i lavori. Quindi diciamo siamo in una fase avanzata, continuiamo a far sì che le promesse fatte in campagna elettorale comincino a trovare soluzione, definizione, per cui voglio dire andiamo avanti in questo modo. Il progetto ha un valore complessivo di 10 milioni e 700 mila euro, finanziato a Valere sul PNRR e inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025. Era un finanziamento da 9 milioni e 6 che però è stato aumentato del 10% per l'aumento del costo dei materiali e delle attrezzature, per cui siamo arrivati a 10 milioni e 760 mila euro, che è una somma importante e può sembrare molto alta, ma nella realtà dei fatti per la tipologia dei materiali che saranno utilizzati all'interno del tearo e per l'acustica e tutta una serie di problematiche impiantistiche, non solo probabilmente non saranno neanche del tutto sufficienti. Devo dire pure che sarà riqualificato la parte sottostante Piazza Cellini e che l'ingresso sarà realizzato sul corso centrale, sul corso San Giorgio, che renderà ancora di più merito al teatro cittadino, che sarà un teatro ovviamente del comune capologo di provincia.